E questo è il telaio RB1000 personalizzato che Cipollini ha realizzato per Filippo Pozzato in occasione proprio del Giro d'Italia. La colorazione è diversa da quella standard che utilizzano i compagni di squadra? In realtà non è solo per il colore che si contraddistingue la RB1000 di Filippo Pozzato perché se andiamo più nel dettaglio e andiamo a vedere all'interno del tubo di sterzo possiamo notare che il telaio RB1000 ci mostra la tessitura delle trame interne di Carbonio Kevlar che costituiscono questo telaio monoscocca realizzato in maniera sartoriale in Italia. Lo stesso dettaglio lo ritroviamo non per caso anche all'interno della scatola Movimento proprio a testimoniare il fatto che tutto il telaio è realizzato con carbonio di ottima fattura. Questa invece è la RB1000 standard in colorazione standard di Filippo Pozzato è particolare più che altro per la personalizzazione che il corridore di Vicenza ha utilizzato sulle ruote. Sul cerchio delle sue Ursus ad alto profilo è scritto Only God can judge me, solo Dio mi può giudicare che è il tatuaggio che Filippo ha sulla schiena ormai da anni.